buonasera di nuovo bentrovati si è ormai conclusa si sta per concludere la prima giornata del milano ai fidelity e siamo nella sala di audiograffiti c'è anche un'interessante novità raccontaci subito qualcosa intanto di questa prima giornata che cosa mi vuoi dire ma allora è stata una giornata molto positiva e abbiamo visto tante facce nuove ragazzi giovani interessati per quanto riguarda audiograffiti quest'estate abbiamo intrapreso questa nuova avventura con chi audio e siamo molto contenti è un diffusore attivo e quindi un prodotto piuttosto nuovo lascerò poi a vim di chi audio che qui con noi raccontare magari qualcosa di più tecnico e che dire la giornata è volata è stato veramente un susseguirsi di musica emozioni vedere i nostri clienti insomma vedere gente interessata proprio a al mondo della musica cosa che secondo me rispetto agli altri anni c'è stata un'affluenza maggiore bene questa è senz'altro una buona notizia e quindi grazie buon proseguimento di serata e auguri anche per la giornata di domani grazie grazie